buongiorno a tutti amici di nexus lab sono alessandro bertola e qua davanti a voi potete vedere l'lg gflex questo non è un telefono normale già solo la scatola ce lo mostra con questo profilo un po inarquato infatti ci troviamo di fronte a un esperimento un esperimento non troppo commerciale anche se alla fine il prezzo di questo gflex è sceso considerevolmente visto che questo smartphone è il primo dlg ad avere un display realmente ma realmente curvo non parliamo di flessibilità dato che vedremo dopo questa comunque è un po limitata però ci sono caratteristiche interessanti che dobbiamo scoprire insieme allora prima la scatola scatola come al solito la parte superiore troviamo l'alloggiamento per lo smartphone smartphone che abbiamo già tolto guida e manuali che magari nessuno di voi aprirà mai caricabatterie da viaggio di dimensioni abbastanza generose soprattutto in altezza lg fa caricabatterie sempre piuttosto alti e cavo usb micro usb standard condiviso cuffie auricolari allora audio molto buono alto e corposo un po scomode da portare e vi faccio vedere non ci siamo trovati benissimo con l'alloggiamento per l'orecchio non ci siamo trovati bene come abitudine rispetto ad altri near ma questa potrebbe essere più una cosa personale che è per tutti a livello audio comunque molto ma molto buono passiamo ora al vero e proprio smartphone alla vera e propria prova dato che eccolo qui davanti a noi l'enorme g flex subito come potete vedere curvo e se invece proviamo a piegarlo non essendo nostro non esageriamo neanche in teoria di qualche micro millimetro nano millimetro si piega ma adesso non usiamo più di tanto poi sinceramente è una feature che non consigliamo neanche di far vedere troppo spesso non si sa mai che si possa crepare in qualche modo a livello estetico ci troviamo di fronte al classico stile di lg che abbiamo visto nell'ultimo periodo ovvero a un dispositivo molto simile al g2 sia come filosofia che come design questo è lo spillo per togliere lo slot per la micro sim abbiamo delle dimensioni molto ma molto generose visto che parliamo di un phablet praticamente neanche uno smartphone da 6 pollici con 160,5 millimetri in altezza ben 82,6 millimetri in larghezza e 8.7 millimetri in spessore il tutto per 177 grammi che sono ottimamente bilanciate quindi a livello di peso ci troviamo molto bene non possiamo dire lo stesso livello di dimensioni che è veramente enorme forse solo l'experia z ultra e l'htc one max avevano fatto tanto se non di più anche se il peso in questo caso è inferiore come potete vedere nella parte posteriore fortunatamente ci è arrivata la notifica abbiamo il flash led integrato nel tastino di sblocco blocco accensione non troviamo tasti nel frontale e nei laterali e nella cornice ma solo questi tre tasti che ci consentono una gestione completa del telefono un bilanciere del volume multifunzione e questo tasto di sblocco subito posti sotto la fotocamera allora a livello estetico poi lì sotto la fotocamera è un vantaggio ma a livello funzionale molte volte si andrà a sporcare la lente della fotocamera forse lg dovrebbe trovare un modo per cui distanziarli in qualche modo in modo da non andare a sporcare l'obiettivo troppe volte molto elegante la cover posteriore ha una piccola trama non in rilievo scusate mi sono intrappettato questo è il colore di titanio molto carino materiali comunque plastici forse leggermente inferiori all'lgg2 allora come potete vedere nella parte frontale abbiamo un altro led di stato posto qua capsula auricolare e logo lg basta oltre a naturalmente la fotocamera frontale il sensore di luminosità per il resto si presenta molto pulito lo schermo non è esente da aditate si vede infatti in pochi minuti di utilizzo in pochi secondi anzi di utilizzo visto che l'avevamo appena pulito prima di fare la video recensione abbiamo lasciato parecchie aditate come potete vedere col doppio tap ormai tutti i smartphone lg nuovi di nuova generazione vengono sbloccati in questo modo molto più reattivo in questo senso rispetto al g2 si vede che è stata ottimizzata meglio la funzione knok rispetto all'altro top di gamma dlg allora schermata di blocco sblocco veramente bella questa animazione che cambia a seconda del tipo di sfondo adesso abbiamo quello marino quindi abbiamo le onde e andiamo a sbloccarlo passerei subito un punto importante che forse è la più grande critica e lato positivo di questo smartphone il display display appunto curvo ma che ha una risoluzione molto bassa per essere un 6 pollici ed essendo ormai abituati a full hd da 5 pollici ce ne accorgiamo subito ci troviamo infatti di fronte a un display da 6 pollici ips quindi molto luminoso scusate non ips p oled che comunque molto luminoso e presenta dei bellissimi neri unica cosa avendo una risoluzione hd ovvero 1280 x 720 pixel in una diagonale a 6 pollici il si nota la differenza si nota tanto faremo in futuro un confronto col g2 dove potrete appunto appurare la differenza che tra i due smartphone della stessa lg come detto questo uno smartphone sperimentale il primo di una serie il primo veramente curvo veramente leggermente flessibile si vede inoltre che non è stata curata l'interfaccia non c'è nessun aspetto che di base ci invogli a sfruttare la presenza di questo display curvo come per esempio sarebbe stata molto utile secondo me la visione in orizzontale dell'interfaccia bisogna dell'orizzontale che manca purtroppo come potete vedere che avrebbe invece secondo me fatto godere della dello spazio ricurvo del display che avvolge l'utente in maniera minio e migliore purtroppo non c'è passiamo comunque all'hardware l'hardware di altissimo livello 2 giga di ram 800 snapdragon 800 da 2.3 gigahertz niente da dire a livello hardware uno standard ormai lag 0 quindi assolutamente perfetto l'interfaccia invece ha questo tipo di icone fin troppo semplicistico quasi non sul minimale ma quasi sul banale che a me sinceramente non fanno impazzire aspetto che comunque con qualsiasi personalizzazione si può cambiare tendina invece che rimane classica molto ricca di lg abbiamo quick memo qslide quick remote tutte tra le prime opzioni della tendina che può essere modificata quick memo ci consente di prendere appunti direttamente sullo schermo e mantenerli in vista come potete vedere feature sempre molto utile ok poi abbiamo anche quick remote che ci consente tramite la porta infrarossi di controllare i vari apparecchi di casa come televisione decoder e amplificatore e poi abbiamo qslide come potete vedere che ci consente di avere questa schermata aggiuntiva con le app lanciate usate più di frequente nel breve periodo abbiamo poi la rotazione bloccata sbloccata noi l'abbiamo naturalmente sbloccata il mira cast e risparmio energetico visto che siamo sul risparmio energetico ci terrei a una nota stra positiva di questo fablet di lg visto che lg ha fatto non solo un ottimo lavoro a livello di display con questo sperimento ma un ottimo lavoro a livello di batteria infatti ci raccontava anche la stessa lg che praticamente per realizzare questo tipo di batteria da ben 3500 miliamper ora hanno utilizzato una nuova tipo di di struttura della batteria in modo che questa possa adattarsi alla forma ricurva dello smartphone tecnologia molto ancora in divenire e quindi un plauso soprattutto anche perché risparmio energetico utilizzabile ma anche senza utilizzarlo abbiamo una durata della batteria che supera il giorno abbondantemente pur tenendo la luminosità a livelli altissimi e noi in questo momento la teniamo abbastanza alta in automatico e in manuale ma tenendola in automatico un giorno e mezzo si fa tranquillamente con un fablet da 6 pollici che non è niente male quindi forse addirittura di poco superiore al note 3 soprattutto grazie alla presenza di meno pixel con una risoluzione inferiore infatti riusciamo ad avere una una durata maggiore volevo farvi vedere anche la presenza dei temi e eccolo qua questo è il tema flex e il tema standard possiamo passare anche al tema lg a cui siamo abituati più spesso tema lg che presenta le icone classiche che mi piacciono sinceramente molto di più dato che stiamo recensendo il flex direi che è più consono utilizzare il tipo di tema che ci consiglia lg quello con le icone per semplificare che non mi fanno impazzire il lancer presenta questo tipo di personalizzazione possiamo gestire con il pinch out sul home tutte le home page aggiungendo le home page impostando la schermata iniziale per esempio qua abbiamo anche la possibilità di appunto aggiungere applicazioni widget come potete vedere col classico meccanismo di lg possiamo aggiungere queste applicazioni widget direttamente in questo modo senza dover chiudere una o l'altra schermata oppure aggiungere anche widget nel medesimo sistema tutto molto comodo abbiamo poi inoltre un drawer questo classicissimo che ha avuto uno smartphone lg si ritroverà subito ma anche uno smartphone android visto che non siamo di fronte a chissà quali innovazioni a livello di interfaccia abbiamo sia qualche applicazione aggiunta sia la possibilità della divisione per widget oltre questo è il drawer andiamo nelle applicazioni ci dice vuoi che ti mostri icone più grandi? si cosa che vi consigliamo essendo un display da 6 pollici questa è un'impostazione assolutamente consona perchè tipo l'Xperia ZU aveva proprio questo problema di tenere troppo spazio tra le icone con questo tipo di spediente riusciamo ad occupare meno spazio o avere meno icone a schermo ma averle più di impatto passiamo alle applicazioni applicazioni proprietarie che si trovano in quantità abbastanza equilibrata troviamo un terzo di applicazioni proprietarie e un due terze di applicazioni di android standard o di terze parti non lg tipo box allora box inizierei anche da lui visto che l'ho menzionato ci regala 50 gigabyte aggiuntivi gratuiti troviamo poi polaris solo versione viewer quindi niente di che non si possa già scaricare di base per qualsiasi smartphone a livello di play store quick translator è l'applicazione che ci consente di tradurre un testo avvicinandone uno adesso proviamo per esempio a mettergli questo se riesce a coglierlo facciamo inglese italiano purtroppo ci chiede di di scaricarlo ci impiega proprio poco mettiamo nella riga ok l'ha preso naturalmente se gli mette una parola in inglese magari riesce a tradurla scusate ma pensavo fosse il manuale in inglese invece il manuale che ci è stato dato e in tutta altra lingua abbiamo questo bellissimo pacchetto di fazzoletti ok riproviamo adesso insistiamo ovviamente composition composizione ecco fatto scusate ma non mi ero accorto che il manuale che ci era stato dato non era in inglese abbiamo poi alcuni aspetti dell'interfaccia che sono stati personalizzati altri meno per esempio la sveglia è rimasta standard come potete vedere mentre Quick Remote ci serve un'applicazione proprio di LG divisa anche per le stanze della casa dove possiamo configurare l'utilizzo di qualsiasi dispositivo molto comoda e molto ben fatta l'applicazione di LG è tra le più complete in questo senso troviamo poi il safety care è un servizio di sicurezza per i nostri contenuti a distanza la ricerca vocale di scusate questa è quella di LG la ricerca vocale di LG il notebook che ci consente di prendere appunti niente di eccezionale un classico notepad abbiamo poi il meteo che è praticamente quello di AccuWeather inserito anche nella home page abbiamo poi inoltre il centro di aggiornamenti che è una scorciatoia LG backup che è sempre fatto abbastanza bene che ci consente di effettuare un backup continuo dei dati abbiamo lo smart word con alcune applicazioni dedicate il dizionario e la possibilità con il quick theater di montare sia foto che video per creare effetti carini volevo farvi vedere la navigazione web dato che con uno schermo del genere con uno schermo del genere a parte che LG aggiunge lo scroll in questo modo lo scroll tramite il doppio dito che è oltre il vincito zoom molto comodo poi andiamo su Nexus Lab perché volevo farvi mostrare una cosa Nexus Lab a parte abbiamo un nuovo tema speriamo che vi piaccia in pagina dove ci sono parecchi contenuti il fatto di avere un display ricurvo da un effetto piuttosto strano che voi non vedrete è un effetto molto carino è assolutamente strano infatti vedersi allontanare il testo per riavvicinare ad un certo punto navigazione è piuttosto buona non abbiamo grandi alti né grandi bassi a parte appunto la possibilità di navigare col doppio dito ci ricorda molto la navigazione su pc tramite touchpad proviamo ad aprirne uno ok il nostro editoriale come potete vedere si naviga molto bene molto veloce nessun problema passiamo alla fotocamera fotocamera a 13 megapixel di buona qualità a livello io la ritengo un gradino sotto il G2 ma proprio in inizia un po' lento a scattare anche senza flash il G2 è sempre un po' lento a scattare ma solo col flash qualità comunque delle foto più che buona possiamo vedere possiamo vedere qualche scatto anche come potete vedere un po' lento nell'autofocus non l'ha messa bene a fuoco però i colori sono un pochino spenti ma sono comunque abbastanza brillanti abbiamo iniziato a fotografare sempre luci dirette per vedere com'è il bilanciamento del bianco puntando il fuoco direttamente sulla luce è ottimo da questo punto di vista si vede addirittura la lampadina il dettaglio è più che buono se è sempre qualche problema un po' sui colori un po' sdavati però come potete vedere con tanta luce il risultato è molto più buono andiamo a fare le ultime due prove dialer classico di LG dove c'è la ricerca automatica si sente molto bene dalla capsula auricolare e anche come autoparlante funziona molto bene messaggi allora i messaggi avere questo questo particolare display curvo non ci dà grandi differenze che differenze scusate molto veloce questo come potete vedere Nexus mi è stato solo corretto dal correttore automatico per il resto si scrive più che bene non ci sono particolari problemi in merito ultima prova prova multimediale l'ho lasciata per ultimo apposta volevo farvi vedere appunto lui come si comporta con i contenuti video inizierei però dall'audio adesso provo a aumentare il volume ha schiacciato per sbaglio la fotocamera per esempio come vi dicevo prima audio è estremamente forte un po' freddo però molto superiore alla media andiamo subito a vedere un AVI AVI che si vede senza problemi proviamo a vedere l'MP4 in full HD vi avvicino un po' l'immagine allora un po' il senso voi dal video secondo me non riuscite a coglierlo di avvolgere l'utente l'utilizzatore del telefono in orizzontale guardando un video c'è ma non è come potete vedere la curvatura comunque piuttosto limitata quello che c'è è sicuramente un senso di un senso di stranezza soprattutto nello scorrere i testi in verticale quello si c'è un qualcosa che bisogna abituarsi non vi ho parlato dell'ergonomia ergonomia che è che è buona un po' migliora soprattutto la tasca posteriore se si mette in questo modo con con la parte dei tasti verso l'esterno si ha un po' più comodità tenerlo in tasca ma niente di che anche in questo caso questo G Flex comunque si vede con esperimento è uscito a un prezzo carissimo ora si trova molto meno ma infatti dobbiamo ringraziare gli stocchisti che lo vendono ad un prezzo molto più basso rispetto agli 800 euro iniziali adesso lo troviamo più o meno sotto i 500 comunque un prezzo altissimo per un display che non arriva neanche al full HD e in questa diagonale si nota si nota i PPI scendono e se siete abituati a un full HD difficilmente non ve ne accorgerete per il resto è un ottimo top di gamma un top di gamma che si fa apprezzare anche per le forme ma non pensate di avere il telefono curvo definitivo dopo un po' secondo me neanche ve ne accorgerete che avrete questo tipo di forma che svantaggi di sorta non ne porta vantaggi ne porta veramente pochi e quindi è da valutare in questo senso spero se avete domande o incertezze potete scriverci sia su YouTube ma soprattutto sul sito dove risponderemo subito risponderemo a tutti i dettagli su questo LG Flex invitandovi poi a guardare il nostro confronto col G2 un saluto da Alessandro per Nexos Lab